Ciao a tutti, benvenuti al mio nuovo video haul oggi sì, oggi video haul di abbigliamento e ho voluto prendere qualcosa di nuovo per la primavera ma anche per l'estate da Forever 21 non vedo l'ora di provare tutto per vedere insieme a voi se ho indovinato o meno perché ho preso un paio di cose che io solitamente una cosa proprio non ce l'ho mai avuta un'altra solitamente non la compro mai su questi siti un po' più economici quindi non so, vediamo devo dire che ho preso un bel po' di cosine perché io da Forever 21 mi trovo bene trovo che il loro stile mi si addica trovo che ci sia molta scelta di capi e niente, secondo me anche se sono economici sono comunque di qualità perché io ho cose prese anni fa che ancora sono comunque buone non si sono rovinate e quindi ci compro sempre volentieri di tutto quello che vi faccio vedere io ho preso la XS mi oriento sempre sulle cose più piccole che esistono e di solito non sbaglio ma non diciamolo troppo in fretta allora, iniziamo come vedete mi sono proprio appena arrivate le cose non le ho proprio nemmeno aperte dai sacchetti quindi è proprio un'apertura indiretta con voi allora, ho preso questo maglioncino che mi attirava tantissimo allora, in un certo vedo che è anche un po' felpato quindi per questi giorni in cui sta di nuovo rifacendo un po' freddo lo trovo veramente molto adatto è molto simile ad una felpina però è più delicato mi piace perché è corto ed ha la vita stretta quindi secondo me segna benissimo la figura e niente, ha le sue manichine tranquille ha questo intanto cadono cose, vabbè il collo è fatto un po' così tipo a taglio vivo, se non sbaglio si dice e quindi niente, sono curiosissima di provarlo mi piace tantissimo il colore perché trovo che addosso a me con i miei colori di occhi, di capelli mi stia bene quindi questo l'ho pagato questa specie di felpina l'ho pagata 17 euro poi, prima che tanto cadano in continuazione ho preso anche e ve l'avevo detto quando vi ho fatto il video sulle scarpe che poi comunque metterò per provare tutto sulle scarpe di Gintix volevo comprare anche quelle specie di calzette fino a poco più sopra della caviglia di rete perché volevo creare un look un po' scuro con un vestitino nero insomma con le scarpe quindi ho voluto provare a prendere due diversi tipi di calze e poi le proviamo tutte e due e vediamo com'è l'effetto queste sono così a maglia più larga e sono anche glitterate queste altre invece sono molto più sottili quindi molto più fitte non sottili, fitte come appunto rete e quindi non so ma comunque poi le proviamo e vedremo come stanno le calzette costano 4 euro l'una poi ho preso due gonne e i colori mi piacciono perché non ho mai avuto gonne verdi militari o comunque verdi e io già qui sto pensando di prenderci poi le calze che ci possono stare bene calze non pesantissime per la primavera appunto però appunto le voglio prendere colorate allora questa innanzitutto l'ho pagata 26 euro trovo che sia super super carina non vedo l'ora di metterla perché secondo me con questa cinta che si fa il fiocchetto è troppo troppo carina e io non ce l'ho mai avuta una gonna così che si apre vediamo sì si apre solo con i bottoni davanti però ha questa doppia fila vi tolgo la cinta ha doppia fila di bottoni e ha anche le tasche fatte in questo modo che secondo me sono comunque un po' particolari con questa forma così e niente mi è piaciuto tantissimo il colore e quindi non vedo l'ora di provarla mentre l'altra gonna che ho preso è a hunter green quindi è un po' credo scura è però proprio di un altro colore perché quella è più verdone questa è una cosa più militare allora questa invece è di vinile e io non ho mai avuto una gonna di vinile questa l'ho pagata 25 euro sempre la XS e mi piace tantissimo questa minigonna che si chiude e si apre semplicemente con la cerniera davanti e niente mi è piaciuto perché è di vinile io adoro le cose in vinile ha anche le scarpe mi è sempre piaciuto fin da piccola e anche questo colore io lo adoro e quindi vorrò vedere poi sul sito di Calzedonia per delle calze da abbinarci ma comunque quello sarà un po' anche il tema di un altro video che ho in mente di fare ma più là poi ho preso ho una cosa ho preso il vestitino nero per creare il mio look con le scarpe e le calzette però è un vestitino estivo se non ricordo male perché è senza maniche poi insomma lo indosserò dopo allora è semplice perché è di quelli stile un po' sopra tipo stile giacca però mi è piaciuto molto proprio perché anche la cintina dietro mi è piaciuto proprio perché è semplice quindi tende a valorizzare maggiormente le scarpe e quindi sono curiosissima di provarlo insieme anche alle calzette e questo l'ho pagato 30 euro però insomma ecco è carino secondo me perché non lo so mi piace poi insomma ecco lo proviamo insieme poi ho preso un paio di jeans allora io solitamente jeans prendo liujo cioè per me i jeans sono solo liujo però non lo so mi andava di provare a prenderne comunque di una marca diversa perché non mi andava comunque di spendere perché i jeans liujo costano e quindi mi sono detto ok proviamo e ho voluto prendere questi che sono come vedete proprio normali semplici hanno giusto qualche scucitura qui dietro sulle tasche però insomma ecco sono essenzialmente molto molto basici semplici l'unica particolarità è che hanno il bordo in fondo scucito e quindi non lo so mi piaceva questo effetto e perché non ce li ho così e quindi ho voluto provare a prendere anche questi sempre taglia piccolissima XS la 27 e questi li ho pagati 27 euro e quindi niente proviamo ah sto notando che hanno anche addirittura il bottoncino ricoperto di carta quindi per essere comunque una marca economica hanno comunque anche queste accortezze ed è per questo che comunque ci compro sempre volentieri adesso ve le faccio vedere un po' così tanto poi l'indosso e si capisce tutto meglio sicuramente tanto è inutile far vedere chissà cosa e poi ho preso una cosa che non ho mai 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 avuto ma che è una cosa che mi è sempre piaciuta e sto parlando di una tuta una jumpsuit se non sbaglio si chiama sì jumpsuit allora ho voluto prendere che è prettamente però questa qui è prettamente estiva di questo bellissimo blu che in videocamera forse è molto più chiaro ma è un blu più scuro e non lo so mi attirava tantissimo mi piaceva per il fatto che è incrociata dietro sulle spalle e niente mi piaceva e questa l'ho pagata 27 euro sempre la XS non vedo l'ora di provarla con le mie mitiche sempre scarpe tra l'altro ho visto che sul sito quello delle scarpe gente che sono uscite anche i sandali e probabilmente ci farò un pensierino comunque lo trovo veramente troppo carino con questo fiocchetto che ha dietro sulla schiena e non vedo l'ora di provare tutto quindi adesso ci spostiamo in camera e proviamo tutto anche con le mitiche scarpe allora ho provato il famoso golfino barra felpina e questa mi piace davvero tantissimo perché ha questa bella scollatura che mette in evidenza qui la parte qui delle spalle che a me piace tantissimo perché mi piace molto valorizzarla con gli illuminanti poi per quanto riguarda le maniche sono precise e anche la vita come pensavo questo effetto di vita un po' più qui stretta mi piace tantissimo e sotto ho messo i jeans provo a farvi rivedere un po' meglio ok questa è tutta la mia bella figura intera allora per quanto riguarda i jeans allora la lunghezza va bene anche se ci ho messo sotto le mie mitiche scarpette però anche con le scarpe normali comunque arrivano all'altezza proprio giusta della caviglia e come vedete sono carini perché hanno anche lo spacco quindi i jeans vanno bene l'unica cosa sono un po' un po' grandi nonostante sia la XS sono comunque un po' grandi però ok è una bella cinta e li tengo perché comunque dietro nella parte posteriore mi piace come mi stanno sono morbidissimi veramente molto molto morbidi e quindi niente secondo me vanno benissimo appunto anche di lunghezza peccato che sono un pochino larghi però vabbè mettiamo la cinta secondo me questo completino così è davvero molto molto carino quindi questi li promuoviamo poi è il momento della mitica minigonna di vinile quella che si chiude solo con la la cerniera e questa va bene questa è precisa secondo me ci sta accadendo proprio sopra anche questo colchino se non sbaglio e quindi niente qui io già mi immagino le calze verdi sotto uno spettacolo secondo me e quindi niente questa è super super precisa io lo sapevo che dei jeans non avrei dovuto prenderli però vabbè mi hanno attirato troppo e quindi niente secondo me questa minigonna è davvero molto molto carina e questa si ha fatto bene a prenderla mi piace davvero tantissimo questa è l'altra gonna ok questa va messa secondo me con un body con un bel body semplice che quindi non crea niente è l'ideale quindi qui ci vuole il body questa è un pochino più seria dell'altro che è più lunga però mi piace tantissimo è morbida molto morbida e quindi sì secondo me un bellissimo body semplice la valorizza tantissimo ma è un nero secondo me ci sta bene anche tipo un giallino comunque un colore io lo vedo bene con un body di qualche colore ci studierò sopra e mi piace veramente tantissimo con questo fiocco che ora ovviamente io ho fatto malissimo però va bene tanto è giusto per vedere le tasche secondo me fatte così sono veramente particolari e quindi niente anche questa è precisa mi sta bene in vita e quindi niente io anche questa gonna la adoro che dire la adoro e adesso arriva il momento di provare le cose un po' più particolari ok è il momento del vestito allora la mia paura era quella della scollatura che fosse troppo profonda per me ma in realtà come vedete è preciso va benissimo e anche questo a me piace davvero tantissimo ha le taschine finte non me ne ero accorta però anche questo è un dettaglio che comunque lo impreziosisce impreziosisce l'unica cosa che bisogna fare un pochino di attenzione perché qui da qui in giù si apre praticamente quindi c'è da fare attenzione perché si apre tutto però come vedete è preciso cioè mi sta bene secondo me poi per quanto riguarda invece le scappette ho messo entrambe le calzette però secondo me cioè neanche si vedono si vede solamente la parte questa più scura ma di per sé la calza non si vede quindi secondo me le calzette non ce le mettiamo assolutamente nelle scarpe e lasciamo quindi semplicemente le scarpe con il vestito comunque le calze non sono male ovviamente io preferisco queste un pochino più larghe e insomma glitterate però diciamo sì le calzette non sono state una bella idea però per il resto il vestito mi piace davvero tanto e sì mi piace sono contenta ora proviamo la tutina ok questo è il momento della tuta della jumpsuit allora secondo me allora andrebbe scorciata ovviamente perché è lunga anche con le scarpe quelle grandi sotto con le scarpe massicce quindi sì direi che leggermente andrebbe scorciata perché comunque mi va sotto al tacco però al di là di questo il problema per me è che va comunque indossata senza reggiseno ovviamente mi sta bene mi sta precisa di tutto anche ieri secondo me nelle spalle mi sta bene mi è conveniente appunto è che deve essere leggermente scorciata però senza reggiseno io mi sento un pochino a disagio però trovo che comunque secondo me non mi sta malissimo per essere un primo tentativo di jumpsuit che non ho mai avuto però certo senza reggiseno non so avete qualche consiglio non so perché se ci potrebbe stare bene forse una fascia non a reggiseno proprio una fascia tipo un top forse potrebbe stare bene voi che dite non lo so la tengo la farò anche scorciare e vediamo insomma perché mi piace mi piace come mi sta trovo che comunque è elegante ma non è impegnativa mi piace tanto il fatto che sia scollata qua sulla schiena io non ho mai avuto cose così scollate dietro e mi piace però vorrei sapere da voi se secondo voi un toppino anche a fascia ci potrebbe stare bene quindi niente qui si conclude tutto il mio video all per questo shopping di forever 21 si conclude appunto con questa jumpsuit la prima mia jumpsuit della vita e niente fatemi sapere insomma se vi piacciono le cosine che ho preso qualcosa forse mi sta meglio qualcosa forse mi sta un po' peggio non lo so si so che mi dovrei anche abbronzare per portare queste cose ci lavorerò su ma non prometto e niente ci vediamo al prossimo video mi raccomando se non siete iscritti cliccate sotto insomma iscrivetevi al mio canale cliccate anche la campanellina per le notifiche e mettete anche un pollice in su se vi piacciono i miei acquisti e ci vediamo al prossimo video ciao